Credimi, veramente entra nel cuore e nell'anima. È un messaggio molto schietto e diretto. Grazie Paola. Ci vediamo più tardi. Angelo Marello. In mezzo, in mezzo. Perché bisogna stare in silenzio? Chi toglie quest'asta? Fate un po' d'ordine. Passo il microfono, che l'avete comprato? All'asta? Guarda. Adesso mi schiaffeggio io, eh. Allora, mi ho fatto paura che urli. Io penso, è bello perché da casa non si capisce niente. No, infatti, ognuno va per conto proprio. È bello, è bello. Allora, torna, che cosa? Torna il cantatore. Lo faccio mettere vicino a te. Bruno Minniti. Con solitudine, ricordo di Wes. Ma cantata da Bruno solitudine, dai. Bruno, ecco. E dai, su. Che poi, solitudine, dai, le donne. Che cosa? La solitudine, dico, meglio soli com'era. Meglio soli che... Che male accompagnate. Che male accompagnate tutte queste donne. Adesso si parla molto delle donne in base a Trump, no? Quello che ha vinto in America il Presidente. Perché? A proposito. Che cosa? Lo sai che io già lo so imitare? Già sai imita Trump. Donald Trump. Dai, fammi. Scusate la pronuncia, fa così. Please, mi consens. I say you. I like girls like you. I like girls, sì. Va bene, tua sorella. Io vado a vedere. È uguale a Donald Trump. Non ha sopporto sta cosa. Ma spadisce. No, Trump. Dal trampolino ti devi buttare. Non ha sopporto sta cosa.